Due anni e mezzo di reclusione è la pena panteggiata dall'uomo che nel giugno 2020 lungo l'A1 a Badialpino, sfinito dalla stanchezza per un viaggio massacrante, perse il controllo dell'auto e causò la morte di quattro persone, i suoi genitori e due dei suoi figli di otto mesi e dieci anni. La comitiva viaggiava sulla carreggiata a sud e il veicolo, una Volkswagen Charan, andò a finire contro un tir parcheggiato nella corsia d'emergenza, reso ormai famoso dalla scritta Andrà tutto bene, posta sulla fiancata, che da subito suonò sinistra per tale terribile destino. L'incidente, ripreso dalle telecamere dell'autosole, è uno dei più devastanti mai avvenuti nell'Aretino. La sentenza è dei mesi scorsi, ma adesso è passata in giudicato ed Emil Ciurari, rumeno trentenne che era al volante, riconosciuto colpevole di omicidio stradale prurimo, dovrà chiedere l'affidamento in prova ai servizi sociali per evitare il carcere. Fu arrestato subito dopo l'incidente e poi rilasciato. Ora si trova nel suo paese, in Romania, con la moglie e la figlioletta, entrambe superstiti in quell'apocalisse. Non appena scatterà l'ordine di esecuzione, l'uomo chiederà la misura alternativa al carcere attraverso il suo avvocato, Cristian Vannucchi, che ha seguito passo passo la vicenda giudiziaria condotta dal procuratore Roberto Rossi. Dagli accettamenti emerse che il conducente dell'auto non aveva bevuto né assunto sostanze. Aveva percorso quasi ininterrottamente 1600 chilometri. La ricostruzione evidenziò come il veicolo, in pieno giorno, prese la traiettoria esterna, invase la corsia d'emergenza, andando a 107 chilometri orari. Il tentativo di schivare il mezzo pesante fu vano, l'impatto fu violentissimo. Nella Charan viaggiavano in otto, anziché in sette. Erano diretti a Napoli, la scena che si presentò davanti ai soccorritori, agli agenti della polizia stradale di Battifolle, ai vigili del fuoco, fu agghiacciante. Una famiglia distrutta, uno strazio. Ciuraro ottenne il permesso di lasciare i domiciliari per accompagnare i propri cari in Transilvania per il funerale. Ha seguito il corso del processo tra Italia e Romania e ora deve saldare l'inevitabile conto con la giustizia mentre il doloroso macigno che sente dentro è una condanna a vita.